E' un convegno che sancisce, devo dirlo perché è una realtà oramai, una nuova era nel rapporto tra magistratura e avvocatura. Le due vere anime che fino ad ora erano state un po', diciamo, si erano guardate in cagnesco per intenderci, hanno ripreso non solo il colloquio, ma hanno ripreso la necessità di insieme riformare l'intero comparto nell'interesse naturalmente della giustizia vera e propria attraverso tutta una serie di protocolli, di tavoli che sono stati intrapresi dal CSM, da questo CSM, non più tardi di due anni fa e che proseguirà sicuramente con il rapporto con il Consiglio Nazionale Forense, con la giovane avvocatura perché sta cambiando la società, deve cambiare il modo di fare giustizia, non solo più snello e veloce, ma sicuramente più uguale per tutti.